paluca. Sono chiusi nel loro dolore nell'appartamento di via Montegrappa Marcona i genitori e i familiari di Alex Marangon dopo una settimana segnata dall'angoscia delle ricerche e dallo strazio del ritrovamento del cadavere Acciano del Montello con l'autopsia sul 25enne che ha impresso una nuova svolta al corso delle indagini. Da morte conseguenza di altro reato il fascicolo si aggiorna a omicidio volontario, la peggiore delle ipotesi quella sussurrata in tutti questi giorni. Al momento si procede contro i gnoti confermano dalla procura della Repubblica di Treviso pronta a risentire le persone che sabato scorso erano presenti al rito sciamanico all'interno dell'abbazia di Vidora circa una ventina. A loro si rivolge proprio la famiglia di Alex attraverso l'avvocato Nicodemo Gentile più persone sanno quello che è successo per spirito di pietà parlate l'appello dei familiari che non hanno dubbi sull'aggressione definita potente e sfuggente. Morte violenta quindi e non accidentale secondo gli inquirenti difficile procurarsi tutte quelle ferite con una sola caduta o un rotolamento per quanto rovinosi. Asfissia terminale da negamento in un soggetto che da vivo aveva già subito delle lesioni. Il quadro emerso dall'esame in pratica Alex è caduto nelle acque del piave in fin di vita con un'emoragia interna e uno versamento di sangue consistente in corso. Oltre al torace e allo sfondamento parziale del cranio lesioni sono state riscontrate ai fianchi e sulla schiena uno scenario compatibile con un'aggressione particolarmente violenta anche da parte di più persone e l'utilizzo di un corpo contundente. Nuovi sopralluoghi verranno effettuati dai carabinieri in tutta l'aria interessata a partire proprio dall'abbazia e i suoi dintorni. Si deve fare luce su quella maledetta notte di una settimana fa quella chiarezza che a Marcon chiedono tutti. Che ci sia giustizia che si vada a verificare quello che è successo veramente e ci lascia un po' sbigottiti. Chiarezza, certo, certo, che discorsi ovvio. Speriamo bene che si riesca a capire cosa è successo perché a quanto so era un bravo ragazzo. Ed è giusto far chiarezza perché queste cose è giusto che ci sia le medicine alternative, tutto quanto, però penso che ci sia bisogno di limiti. L'ho visto nascere, è 50 anni che sono a Marcon, l'ho visto nascere. Anche quei piedi chiediamo chiarezza, ne ha diritto povero ragazzo.